Il giovedì del Savio regala agli appassionati un palinsesto all'insegna del divertimento. Sei esponenti della leva 2013 si batteranno in un miglio dal ranking omogeneo collocato al centro del cartellone, mentre alla quarta andrà in scena la corsa all'americana, sfida tra trottatori dalla consumata esperienza che mutuando l'archetipo del ciclismo indoor si sfideranno in quattro giri di pista, effettuando uno scatto ai 400 metri finali di ogni tornata con lo scopo di eliminare dalla competizione l'ultimo del gruppo, così sino a 800 metri dall'epilogo, quando i tre superstiti si giocheranno la vittoria che l'anno scorso fu appannaggio di quel Masurinjet che sarà in pista per difendere il titolo. La disamina del convegno parte dalla intricata trama tattica che caratterizza il crew, un miglio per aspiranti classici come possono essere il Marangoni e il Marangoni-Filli, in ottica vittoria si distinguono la velocista di casa Elert Uppupa RL, già sul podio del Gran Premio Italia in coppia con Vecchione, Uppupa Spritz, generosa allieva di Andrea Sazzetto, con il promettente Manuel Pistone ai comandi e Uetwise AS proposta dal team Gociadoro. Intanto è andato in archivio un interessante martedì dal doppio evento centrale. Il master Anna Maria Grassi, riservato ai gentlemen, è stato vinto da Filippo Monti con Naxos, mentre tra i professionisti la prima moneta del premio Gruppo Brunelli è andata a Tamarjet, ben guidata da Andrea Farolfi.